...importante adesso, ciao! Special Olympics Italia, è felice di comunicarvi la convocazione dell'atleta Alessandro Pintus, appartenente al team specialmente ebrea, in qualità di atleta titolare nella disciplina del nuoto over-mote per i prossimi giochi mondiali di Special Olympics Berlino 2019. Grazie! 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 Tre o quattro volte il bischio! Grazie! Bravo! Grazie Ale!